In questo momento ci troviamo sulla TBM che sta scavando il cunicolo esplorativo della Maddalena. Abbiamo raggiunto il confine tra Italia e Francia, siamo a 6.913 metri dall'imbocco del cunicolo all'interno del massiccio dell'Amben, a circa 2.000 metri di copertura. Il tunnel di Saint-Martin-la-Portre, attualmente l'escavazione con un tunnelier roche dure di 11.26 di diametre, il tunnelier per nome Federica. Lui escava in l'axe del tubo principale, definitivo della futura linea di l'antirinfero dell'Iver.